Salvi la si deve anche grazie all'apporto di WWW Cagliari Sailing Charter che ti mette a disposizione delle barche a vera meravigliose, noi siamo a bordo di questa colletta salvi che è un 18 metri a vela con tutti i comfort, addirittura ti mette a disposizione anche degli skipper, il nostro skipper si chiama Antonio Tiragallo ed è uno tra i migliori in Italia perché ha regattato niente proprio di meno che con Cino Ricci, ha vinto la Rolex Cup e ha regattato la Valencia. Salutamelo, cavolo, complimenti Ecco, tanto perché a voi sappiate, e ieri penso che ho addirittura fatto io al timone, per la prima volta che avevo visto la barca a vera, nove nodi al timone con le vele spiegate, una figata galassia Ce l'hai fatta, sì, tutto bene? Oggi ragazzi siamo in questa cala Piscini, siamo come hai detto tu in provincia di Cagliari e siamo nella zona di Domus de Maria, ricordiamo che sono state attribuite quattro vele, questo è un posto incantevole, fuori onda ti stavo raccontando che siamo scesi con il canotto a Cala Piscini in un'altra caletta che ho denominato Caletta Salvi Bene, nella Caletta Salvi c'erano, vi giuro carissimi ascoltatori, dei sarghi e delle, addirittura delle... Delle trigliette? Esatto, che mi stavano mordendo le dita nei piedi, una cosa impressionante, questo è tanto per dimostrare che il sud della Sardegna è non incantevole di più, sapete quante persone ci sono in questo momento sulla spiaggia? Quattro. Ecco, mi vedi. Nella Sardegna del Nord, qua non esistono, perché ci sono soltanto quattro barche a vela, noi siamo gli unici con la barca alla fonda e in queste spiagge dove ci sono i pesci ci sono quattro persone, e tra l'altro c'è la strada costiera che è comodissima, per cui ricordatevi, provincia di Cagliari, zona Domus de Maria, la spiaggetta Cala Piscini. Va bene Stefano, grazie mille, io ti ricordo che l'invito a raggiungermi a Milano, però è sempre valido. Benissimo, ci sentiamo domani, saluti dal mio scrivere Antonio. Ok, saluti, ciao Stefano. Tutti gli appuntamenti con Si Salvi Chi Può sono anche su internet www.stefanosalvi.it Appuntamento a domani alla stessa ora.